L'Assemblea ordinaria degli azionisti Friulia ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione. Alla guida della finanziaria è stata confermata Federica Seganti, assieme alla quale siederanno nel CDA Barbara Bortolussi, Francesco Clarotti e Divino Ierian, tutti facenti parte della lista di candidati proposta dalla Regione quale socio di maggioranza, oltre a Mario Pellegrini in rappresentanza della lista proposta da Banca Intesa San Paolo. Friulia continua ad essere uno strumento importantissimo, un volano per lo sviluppo delle nostre imprese regionali che appunto entrando nel core business delle aziende stesse riesce a dare quella spinta che diversamente può essere un elemento di criticità, quella spinta che oggi chiediamo appunto sia adottata con maggior coraggio rispetto al passato perché vogliamo davvero poter sostenere le nostre imprese nelle scelte strategiche non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale. L'Assemblea ha preso atto degli indirizzi di gestione di Friuli approvati dalla Regione che prevedono in particolare lo sviluppo di proposte per il rilancio delle iniziative imprenditoriali e il supporto alle piccole e medie imprese ma anche il sostegno all'occupazione, all'innovazione tecnologica e la formulazione di proposte per la riconfigurazione del gruppo dopo la fuoriuscita di Autovie Venete. In merito l'assessore Zilli ha ribadito che dovrà essere valutata dal CDA l'attuazione di operazioni nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici per rendere il Friuli Venezia Giulia un hub internazionale dei traffici da e per l'Europa. Il sostegno alle nostre realtà economiche regionali passa attraverso il controllo della Friuli, attraverso quindi la grande impronta che la Giunta regionale ha dato nelle linee di gestione affinché ci sia un maggior coinvolgimento, maggior coinvolgimento di questa società come sostegno effettivo alle nostre realtà industriali. La Regione ha quindi dato mandato al Consiglio di Amministrazione di proporre ai soci una modifica dello statuto che fissi l'esercizio societario del periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno così da allinearsi al bilancio regionale.